Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio iGVolt, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi, basta l'inscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Ebbene sì, siamo tornati con il secondo episodio di un video sul calciomercato nel giro di una settimana. Ormai il mio canale è così, Carrera con la Samp, Foot Draft Challenge e notizie di calciomercato che si sta rivelando veramente bollente anche per la Serie A. La scorsa settimana vi ho parlato di una possibile partenza di Guain dal Napoli e voi mi avete risposto con oltre 70.000 visualizzazioni, più di 3.000 mi piace e tantissimi commenti. Vi ringrazio assolutamente perché parlare di calcio, come ben sapete, è la mia più grande passione. E allora rimmergiamoci in quella piscina che è questo calciomercato rovente e parliamo di quella che potrebbe essere la più grande trattativa di tutti i tempi, ovvero l'accessione di Pogba. Prima di farlo però vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network, specialmente Facebook e Instagram. dato che questo weekend lo passerò assieme a tutti gli altri Braillies nella Ridente Bergamo e caricheremo tantissimi contenuti di ignoranza che voi non avete neanche un'idea. E mentre che siete nella descrizione cliccate anche su tutti i loro canali e lasciate un'iscrizione. È tutto pronto per iniziare, ci siete, ci parte! Intanto una doverosa premessa, io sto facendo dei video del calciomercato ma li sto facendo male. Mi spiego, oggi sto registrando il video che è il 21 luglio ma questo video effettivamente uscirà il 22. Nel mentre che ho scritto, girato, montato e caricato questo lavoro magari saranno successe tantissime altre cose e Pogba sarà già ufficiale in qualche altro club. Purtroppo per essere il più preciso possibile ho bisogno di tempo e quindi devo preparare il video con un po' di preavviso. Per questo vi dico che ad oggi la squadra più probabile per la prossima stagione di Pogba è il Manchester United. Se me l'avessero chiesto ieri avrei ribadito l'incendibilità del polipo dalla Juventus. E nel mentre che state guardando questo video magari Pogba sarà già ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il mercato non vive di giorni, non vive di ore ma vive di minuti, di secondi. Nel giro di un minuto infatti può cambiare assolutamente tutto come ricordano i casi Milito e Soriano. Il primo acquistato dal Genoa proprio sul Gong con il contratto lanciato al di là della porta del calciomercato proprio sull'istante esatto di chiusura. Oppure il centrocampista italiano che non è passato proprio alla corte di Sarri in questa stagione perché hanno passato una manciata di secondi dalla chiusura ufficiale del calciomercato. Oddio devo riprendere fiato. Certo è che qui stiamo parlando del colpo più importante in assoluto di tutti i tempi economicamente parlando. Ma andiamo con ore di neve. Nella giornata del 20 luglio lo United sembra aver chiuso ufficialmente per il francese. Offerta mostruosa di circa 260 mila euro a settimana che equivalgono a 13 milioni e mezzo di euro all'anno. Una cifra pazzesca per chiunque specialmente nel bel paese. Ad oggi alla Juve arriva a guadagnarne circa 5. Alla Juventus andrebbero più di 100 milioni di euro ma la trattativa non è ancora conclusa perché Minoraio alla richiede più di 20 milioni per il trasferimento del suo assistito. A Torino non ci stanno e vogliono 120 milioni puliti lasciando poi discutere degli eventuali aspetti tecnici ed economici il procuratore e il club inglese. La notizia vera e propria è che nella notte tra il 20 e il 21 luglio torna in carica Real Madrid. La Juventus aveva ribadito l'incendibilità assoluta del giocatore quando lo chiesero i merengues ma ora il fortino bianconero sembra in sera a scricchiolare e quindi i campioni d'Europa in carica sono tornati all'assalto per portare a casa il ragazzo. E per la Juve questa non può che essere una fortuna. Se si è davvero arrivati a decidere di cedere Paul che almeno si scatini l'asta. L'ho già ribadito mille volte. Se la Juventus vuole davvero arrivare a vincere la Champions League in questa stagione non può privarsi di Paul perché di centrocampisti sul mercato così forti in giro non ce ne sono. Se si è arrivati a questo punto è assolutamente perché il ragazzo ha puntato i piedi e ha deciso di partire. E secondo me fa bene se vuole provare una nuova esperienza ma non al Manchester United. Insomma la Juventus lo prelevò proprio da i Red Devils a meno di un milione di euro. Paul fu fatto partire senza rimorsi e ha spesso dichiarato di non vorre mai più far ritorno a Manchester. Inoltre lo United non gioca alla Champions quindi dovrebbe concentrarsi unicamente sulla Berkley's Premier League. Secondo me sarebbe un passo indietro nella sua carriera nonostante Ibre Mourinho. A Real invece andrebbe a giocarsi le sue carte. Certo sarebbe meno al centro del progetto ma guadagnerebbe comunque gli stessi soldi e andrebbe a giocare in una squadra di prestigio internazionale, mondiale, assoluto. Se vuoi Pogba sai che devi strapagare sia la Juventus sia il giocatore. Ma io da Juventino che cosa ne penso della sua sessione? Penso che la Juve come ribadito altre mille volte in questa stagione volesse tenere assolutamente il giocatore di fronte a ogni offerta. Se non vendi Pogba in questa stagione a 120 lo vendi alle stesse cifre nella prossima. Sia che sia una stagione positiva sia che sia una stagione negativa. Ormai Paul Pogba è un brand. Certo la plusvalenza è allettante e queste cifre non sono solo fuori mercato ma fuori da ogni morale. Parliamo di milioni di euro come se fossero noccioline perché siamo sempre più abituati a un calcio dipendente strettamente da marketing e business. Non credete che United e Real Madrid facciano un investimento a comprare Pogba perché sapete quanti milioni di maglie devono vendere per ritornare di tutti quei soldi spesi? Dovresti circa far acquistare un tir di maglietta ad ogni persona che vive nel mondo. Quando De Laurenti spara nel fatturato ha parzialmente ragione perché essendo la Juventus una società forte economicamente deve arrendersi di fronte a simili mostruosità etiche. Se pensiamo che i giocatori più pagati nella storia sono stati Ronaldo e Bela 100 milioni viene da sé pensare che vendere Pogba 120 sia un affare. Ma questo avviene proprio perché la Juventus non ha necessità di venderlo. La cosa strana mi avviso sono solo le tempistiche. La Juve ha sì investito sul mercato e tanto ma non ha in rosa al momento un giocatore in grado di sostituire Pogba. Pjanic è arrivato perché Marchiso è fuori a tempo indeterminato e Chiedira non è in grado di giocare più di tre partite consecutive senza farsi male. La Juve ora come ora è addirittura senza Pogba ha una coperta cortissima a centrocampo. E se vai a cercare di acquistare un centrocampista di qualità come Matic, André Gomez, Witzel o Brozovic dopo aver ceduto Pogba la gente ovviamente tende a farti strapagare anche i loro giocatori perché sanno che tu hai i soldi. Per questo sono stupito. La Juventus ad oggi ha acquistato senza avere l'erede di Pogba e va acquistato prima della sua partenza. Per come vede il calcio Allegri sarebbe assolutamente un buon palleggiatore. Ecco perché preferirei cedere Paul a Real Madrid perché lì gioca un giocatore che ha dimostrato di saper benissimo gestire il pallone e risponde al nome di Toni Kroos. Pogba è un giocatore unico nel suo genere. Come lui non c'è nessuno ma nella scorsa stagione forse è stato il centrocampista che mi è piaciuto meno. Adesso direte sì è facile parlare adesso che va via ma è così e chiedetelo ai miei amici è così e vi vado a spiegare il perché. Io adoro le mezzali di inserimento e chiedera mi ha totalmente conquistato. Io non pensavo che fosse un giocatore simile con un fiuto in zona gol con una capacità di inserimento perfetta. Io chiedera lo adoro. Invece Marchese è stato uno dei giocatori più importanti in assoluto per equilibrio tattico e capacità di costruzione del gioco perché è stato veramente essenziale. Mentre Pogba è un tuttocampista che segna, fa segnare e risolve le partite ma a livello squisitamente tattico ha ancora tantissimo da imparare. Poi certo quando fa il numero anch'io dico wow Pogba ha fatto quello, wow Pogba riesce a fare questo. Ma ad Allegri queste cose non piacciono, infatti è stato il giocatore in assoluto più richiamato dal tecnico. Poi si sa il calcio è fatto di porta girevoli, si supportano i giocatori ma si tipa la squadra. Pogba è uno dei tanti che è arrivato a Torino, ha onorato la maglia della Juventus e ora si prepara a partire regalandoci una valanga, una camionata di milioni di euro che con tutta probabilità ora verranno reinvestiti su Higuain dandoli a Napoli. E anche qui parliamo di una cifra oltre ogni logica perché 94 milioni di euro non hanno veramente senso per un giocatore. Ma se vuoi comprare certi calciatori di una certa qualità, di una certa forza sono quelle le cifre che devi andare a investire, almeno nel 2016. Io con Marotta, Paratici e Danielli mi sento assolutamente in una botta di ferro perché se hanno deciso di vendere Pogba sanno già su chi devono puntare per la prossima stagione. Ed io in cuor mio mi auguro sinceramente che sia quel tedesco che gioca a Nero a Madrid. Grazie per la visione!